Allora, per fare questo esperimento serviranno due mazzi di carte, un mazzi di carte gigante ed uno invisibile, ok? Guarda, lo apro e lei mi dica una carta. Donna di cuori. Donna di cuori? Sì. Richiudo e rimetto qui. Prendo il mazzi di carte gigante. Tutte e quante carte di faccia, tranne una carta. Non ci crederà, ma quella girata è proprio una di fuori. Non è possibile.